Mascherina FFP2, il comune ne ha acquistate 15.000, test antigenici rapidi, autodiagnostici 7.500, quelli a disposizione. Una calza della Befana particolare, quella che il comune di Carmignano di Brenta ha deciso di regalare a tutti i suoi cittadini, stanziando 40.000 euro dal fondo Covid. In questo momento dedicato dal punto di vista pandemico, l'autodiagnostici diventa uno strumento fondamentale per limitare al massimo la diffusione del virus. Non le uniche iniziative in questo senso in paese. Il 15 gennaio il comune sta organizzando un Vax Day pediatrico e sta pensando di riproporre un Vax Day anche per la terza dose, grazie all'impegno dell'amministrazione e di numerosi volontari. Ringrazio i volontari di protezione civile che assieme a tanti altri volontari delle associazioni locali ci stanno dando una mano nell'impostaggio del materiale e soprattutto nella consegna porta a porta a tutti i nostri cittadini entro il venuto.